Ciao, è oscuro adesso. Ho dimenticato che perdiamo la luce presto in ottobre. Normalmente sono qui alle 5, ma adesso sono le 7 di sera ovviamente. È un test per il mio cellulare. Non so, è possibile fare un video senza luce? Sono tardi adesso, oggi, perché stavo cercando su Amazon e su YouTube perché voglio sostituire il mio treppiedi, non è un tripode, treppiedi, treppiede perché c'è un problema con una gamba. Questa volta penso che un gimbal sarebbe interessante per me. Con i video ovviamente, perché con un gimbal è possibile fare il movimento facilmente. e spero che sia meno pesante usare un gimbal che con la mia braccia o la braccia. Ma il primo era, oh il nome è DJI OM5. Ma alcuni youtuber dicono che ci sono i problemi con questo gimbal e dopo un po' della ricerca ho trovato un Hohem EasyStary V2. Le due sono i stessi prezzi, ma non sono economici, ma non sono costosi. E una cosa molto interessante per me con EasyStary V2 è che c'è una luce. E quando sono nella stanza facendo un video, a volte c'è un problema con la luce. Sono un po' gelo nel video. E qualcosa più interessante per me è che c'è un, non so, un camera, un occhio che può seguire, seguirmi. E' molto interessante perché normalmente sono nel bosco o nella mia bici e con qualcosa che posso, può seguirmi, posso fare video più interessante. E' l'idea ovviamente. Ma non so, devo guardare alcuni video di più per selezionare o scegliere il gimbal per me. Ovviamente posso sostituire il mio treppiede con un altro che costa niente, che non costa niente. Ma penso che vorrei un gimbal questa volta. Ok, devo continuare perché c'è ancora sole, ma non so quando non sarebbe possibile camminare senza la luce. Ok, a domani.